Ciao, astronomersi! In questo tutorial vi mostrerò come integrare i nostri bar di dovetail sistemi del tuo telescopio e evitare qualsiasi flessure. Come potete vedere, qualsiasi bar di dovetail viene con ruoli, ruoli per M62 standard e slot che ti permette di collegare qualsiasi elementi di plus alla bar, sempre con due ruoli, per evitare qualsiasi flessure. Vediamo diversi esempi. Se voglio collegare i ruoli di supporto alla bar di dovetail vixen, posso avere 4 ruoli di M6 ruoli e impostare le ruoli in questo modo e vedete che abbiamo due ruoli di trattato sulla bar che ci permette di rinforzare i ruoli di supporto alla bar con due ruoli. In questo modo il ruolo è perfettamente rinforzato. Ora, se voglio collegare i ruoli di supporto alla bar di dovetail vixen, posso usare i ruoli di passaggio ruoli che sono presenti sulla bar e connesso il ruolo di supporto in questo modo. Come potete vedere, posso collegare con due ruoli di M6 standard il ruolo di supporto alla bar di dovetail. Ora, con alcune delle bar di dovetail vixen vixen vixen, posso creare, usando più ruoli di dovetail vixen 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 vixen. In questo modo, potete vedere che ci sono ruoli in parte del ruolo di sotto che corrispondono alle ruoli di trattato che sono presenti nella parte del ruolo di dovetail. Potete inserire le due ruoli e rinforzare per avere il ruolo perfettamente rinforzato sul ruolo di dovetail. Potete anche collegare il ruolo di dovetail vixen 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 vixen. In questo modo, potete semplicemente rinforzare il ruolo di dovetail vixen alla bar di dovetail vixen 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 e inserire le due ruoli. Potrei usare 4 ruoli di M6 in modo per rinforzare la bar di dovetail vixen In questo modo, potete avere l'uixen vixen 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 in questo modo e le consagrinse vixen vixen vixen. Grazie.